Attualmente come potete notare si sta rifacendo il tetto dell'ala monte dell'edificio e finalmente dopo anni, io sono arrivato qui dal primo di settembre, so che era un'avvertenza che andava per le lunghe, finalmente la provincia si sta dando molto da fare per ripristinare anche in termini di sicurezza appunto il tetto dell'edificio qui a fianco. E per quanto riguarda appunto i lavori so che se ne parla nei giornali l'amministrazione provinciale bisogna dare atto che si sta attivando veramente in maniera molto proficua per risolvere i problemi e quindi a noi inizialmente hanno dato questo appalto di lavoro che dovrebbe terminare tra un mesetto circa e il rifacimento del tetto che era anche pericoloso.